un nuovo episodio di minecraft che siamo compagnia di super f e lui sta lui sta facendo il live perché non si sta facendo live perché che ne so io perché dopo lascio il link descrizione e niente andiamo a fare un live e sto facendo lui il live michele vai a prendere la pietra io no io vado a prendere la pietra ok chi è allora vabbè tra un po possiamo guardare vado io dopo guardare stai tranquillo ok ci siamo qua aspettate un attimo che sto cercando delle pietra non riesco a trovare pietra e tutti e due lui non riesci a pronunciare si bravo così bravo ma il mio nome non riesci a si può lasciare il mio nome va bene adesso prendiamo pietra prendiamo anche se riusciamo a prendere carbone o non dire le robe ok eh si quindi dobbiamo aspettare un po' grazie grazie per stai guardando il live grazie un sacco stai guardando la live se qualcuno sta guardando la live scrivete in chat che state guardando la live e vi saluterò pollaia pollaia de me ok ci siamo ok sto guardando tutti chi si vede la live siamo a posto tutti mi chiede ok aspetta super f ma siamo un c'è un mondo più non mi piace questo qua perché tutto tutto bosco se senso tutto alberi tutte le parti non riesco a trovare aspetta che prendo sabbia per dopo fare un po' di vetro prendo tutto 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 ok ci siamo ok ci siamo sto prendendo un po' di sabbia perché dopo dobbiamo fare vetro e dopo non riusciamo a trovare sabbia dobbiamo andare lontano adesso abbiamo la sabbia prendiamo no scusa ok aspetta che vado a guardare chi sta guardando non mi fare nulla difendi c'è arriva qualche mostro un po' di creeper vado qua ok scusate che aspetta che ci siamo pronto mi senti vero ok ok Michele guarda sul chat c'è chi scrive qualcosa no nessuno sta scrivendo niente ok 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 ci sei ok qua prendo la mela perché abbiamo bisogno di sempre la mela ok ci siamo ok aspetta che faccio il craft hai fatto il crafting table super f hai fatto il crafting table no allora ti faccio una accetta subito no ho rotto per per fare dopo c'è ho bisogno no 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 faccio più veloce perché così non ci voglio di craftare ho sbagliato scusate faccio anche una cosa faccio un'altra spada e Michele e che Michele è super f sbaglio sempre dire il nome ok eh prendi l'accetta eh prendi l'accetta ma cosa fai adesso prendi anche la spada io prendo questi ce l'ho anche il cesto super f può prendere la spada grazie la spada si un secondo che casa di nabbo è questa è casa di nabbo vero? si che è proprio a casa di nabbo io vado a prendere un po' di minerali scavo di qua cosa dici? si dai scavo di qua ma non è simmetrica cazzo no sta arrivando la già sta arrivando notte veloce veloce super f veloce fai una casa o rifugiamo qua tra un po' aspetta non abbiamo anche il carbone ah ah eh no perché sto scavando adesso non ho nulla senza non ho trovato ancora nulla devo ancora aspettare facciamo così aspetta prendi il crafting table prendi veloce il crafting table aspetta faccio io subito eh faccio il il carbone non mi picchiare non mi fare nulla eh dammi un pezzo di legno un pezzo un pezzo veloce dammi 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 non quelli non questi non quelli quelle lì questi guarda tipo così ma quella la normale la legna non questa legna questa qui questa no non questa un'altra vabbè faccio del qua ok brucia aspetta eh si 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 aspetta che devo fare le torce perchè ah ce l'ho le torce sono stupido sono stupido scusate voilà aspetta che metto anche di la perchè così non spona nel mob metto anche una qua ok ecco è arrivato un mob buongiorno venga 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 voilà finita ok abbiamo un carbone leggi il chat cosa dicono no allora vabbè ok io vado a scavare un superf pecora vai via di qua pecora ah 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 ma vabbè ma vabbè facciamo una casa piccola per fare un rifugio senso non è che restiamo qua per sempre io voglio fare una casa sul tipo vicino a montagna che sarebbe sotto montagna una casa come un bunker capito ho trovato carbone tanta basta basta che non c'era la lava sotto di me ok tantissimi pezzi di carbone ok superf c'è riesci vai un po' cercare della lana così fai un letto almeno si 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 tranquillo fai piano fai piano abbiamo un sacco di tempo vado a trovare delle pecore io ho un sacco di di carbone non riesco a parlare oggi non so perché c'è senso a volte fermo a volte no buh vabbè no sono stupido perchè perchè non riesco a muovermi ok adesso si perchè non mi hai fatto un piccone scusa? perchè io stavo facendo il picc... stavo picchinando io cioè tu fai la casa adesso io faccio il coso ho senso scavo vado a prendere un po' di robe e tu prendi un po' di legna e bla 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 eccetera eccetera c'è riesci a trovare un po' di cibo meglio voilà vado con questa ok ehm ci vediamo quando ho trovato un po' di minerati vediamo ho lasciato tutta pietra qua eh se no ho ancora un sacco di pietra cosa stai facendo scusa? dammi 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 l'accetta lascia grazie voilà vado ciao voglio vuoi prendere anche il legno scuro? si 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 cioè sarebbe il legno si calma dai dai rigenera ha un cuore un cuore ma no quella la tipo la 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 legna nera che hai detto non c'è qua perchè noi siamo vioma non è quella la vioma perchè sarebbe quella la no perchè è dato da tipo cesto ho trovato da bonus cesto quella la quando inizi puoi trovare un cesto che ti da tantissime robe creeper non esplodere grazie e non venire cosa? si è attivata sei un nabbo cosa ho fatto? l'hai attivata sei un nabbo ma cosa non ho attivata? hai attivato la chest bonus sei un nabbo perchè? perchè sono le nabbi li attivano stai zitto eh guarda ti do un po' di legna tieni tenga tenga dietro di te tenga anche qui no no questo che è mio 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 no dammi un po' di legna che ho bisogno ok vado a prendere no devi avere aspetta devo avere no scusa 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 volevo aprire il chest scusa no eh ce l'ho il piccone qua scusa volevo il piccone perchè non ho il piccone attenzione chiudi la porta così non venga nessuno non venga nessuno ok ma qua c'era un si c'è giudigiamente ok dai buonasera buonasera amico oh mori ti mori bene ok cazzi da tantissimo tempo ho scavato ho scavato ho scavato sono arrivato a livello 28 e sono venuto qua ehm ce l'ho anch'io ehm aspetta che faccio un po' di torce così ti do anche te tenga tenga si ce l'ho aspetta che ti do un po' di torce tenga oh ha preso delle torce tenga non mi picchiare ehm una me ne hai dato una no ti ho dato ma scusa perchè non prendi tenga 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 eh no è già finito qua il caverna sotto si comincia ehm che Michele sbaglio sempre il 9 perchè l'ho detto tantissime volte che sbaglio si tra un po' ma adesso pertanto faccio non mi picchiare per favore grazie perchè devo non devo scendere ehm si possiamo fare ma dobbiamo aspettare che ci avviene qualcuno perchè non possiamo giocare da solo c'è senso non vede nessuno in live cosa facciamo da solo scusa cosa allora andiamo a giocare free fire ciao ciao a tutti ehm si ciao adesso giochiamo a free fire ehm questo qua è per cioè è finita perchè dobbiamo fare un'altra cosa e mi dispiace un sacco perchè non posso andare più più avanti e ciao a tutti